Lo streminzito pareggio ottenuto domenica scorsa sul campo del Camerat ha deluso le aspettative dei tanti tifosi che hanno a cuore le sorti dal Gela. Un risultato che non è piaciuto affatto ai supporters biancazzurri che hanno assaporato la conquista della vetta della classifica del girone A del torneo di eccellenza solo per una settimana. E il pareggio, siamo sicuri, non è andato giù neanche al tecnico Totò Brucculeri, una squadra che punta alla promozione in Serie D, non può permettersi certi passi falsi. Si pregiudica in 90 minuti quanto di bello e prezioso fatto nel corso delle altre partite. Perché la vittoria con la San Cataldese, suggellata da un euro-goal del capitano Borraffini, doveva rappresentare il trampolino di lancio. Lo stesso allenatore, lo aveva detto a Camerata, sarà una prova di maturità, fallita sicuramente in merito al risultato finale. Anche perché le altre corrono. La San Cataldese infatti ha nuovamente allungato sulla truppa biancazzurra, portandosi a più due dopo il successo ottenuto nel derby con l'atletico Campofranco. E il Gela, adesso secondo, è stato raggiunto dal Dattilo Noir a quota 39. In questi giorni, successivi alla Mara trasferta nell'Agrigentino, il condottiero gelese ha richiamato all'ordine i propri ragazzi. Li ha catechizzati a dovere. Bisogna riprendere la marcia da subito. L'occasione propizia si presenta tra due giorni. Al Vincenzo Presti, i pandolfi e i compagni riceveranno la visita del Paceco. Impegno non facile, assolutamente. Gli avversari infatti accusano solo quattro punti di distacco dalla formazione preseduta da Angelo Tuccio. Arrivano dal pareggio in casa con il Mazzara. Sarà quella di domenica una partita da vincere a tutti i costi per i gelesi, senza sé e senza ma. All'andata il Gela si impose per 2-1. Il programma di domenica prossima prevede la trasferta della capolista sancataldese a Favara e l'incontro casalingo del Dattilo Noir contro la Folgore Serinunte. Vincere e convincere, questo chiedono i tifosi biancazzurri. La Serie D è dietro l'angolo. Ma se si gioca come a cammarata, è inutile nasconderci dietro un dito, tutto sarà maledettamente complicato.